Ogni giorno produciamo 1,5 kg di rifiuti per famiglia. Le famiglie qui in Italia sono 25.700.000, ergo ogni giorno dalle nostre case escono oltre 38.000 tonnellate di rifiuti. L'equivalente, per farvi capire, di 40.000 Fiat Punto. Basterebbe non comprare più Fiat Punto per salvare il pianeta. Invece no, tonnellate di rifiuti italiani vengono inviati in Germania e distribuiti casa per casa. Questo perché quello dei rifiuti è un business che fa gola a tutti. Fate questo esperimento una sera, lasciate l'immondizia fuori casa e vedrete che l'indomani mattina non la trovate più. Io l'ho provato sulla mia pelle, è successo mercoledì scorso, ho lasciato la spazzatura fuori casa, la mattina dopo non ho trovato nulla. Per fortuna che all'interno non vienono robe importanti da buttare. Il punto è che non conviene produrre spazzatura. Non la produco più, io al limite la mando a prendere su Amazon. Ma questa è una battaglia che porto avanti da anni. Che mondo lasceremo ai nostri figli? Ammesso che siano nostri figli, questo è sempre da verificare. Vi lascio con questo punto di domanda. Fatemi sapere.